Oltrapoteri! Ottimo lavoro, Trek! Guerriero Gormita, affrontami e mostrami quanto il tuo guardiano sia valoroso! Un Mecha Gormita! Credevo fossero scomparsi per sempre! Le regole! Un passo fuori dall'arena e hai perso! Se invece resti all'interno dell'arena, vinci la sfida! Che lo scontro abbia inizio! Credi che riuscirai a buttarmi fuori dall'arena? La roccia non si muove, Mecha, giusto, guardiano? Esatto! La roccia resiste e vince sempre! Che la prova abbia inizio! Guardi che riuscirai a augenare! Visto? Non puoi spostarmi. Sì, T-R-E-K-O-T-R-E-K! E ora staremo proprio a vedere come te la caverai contro pura energia, Mecha. Aspetta, ma che succede ora? Sembrerebbe che la vera prova stia per cominciare. Trek può farcela. Ragazzi, tutto ok? Ragazzi! Trek! Il tuo guardiano potrebbe non essere all'altezza! Sta aumentando la sua spitta! Devi essere una roccia! Concentrati! Dobbiamo resistere e vincere! Ma i miei amici... Dobbiamo vincere se vogliamo davvero salvare Gorm! Guardiano, non abbiamo scelta! Non riusciremo a resistere a lungo. Alla fine rischiamo di perdere. Aaron aveva ragione! Dobbiamo muoverci, Karak! Preparati! Devi abbassarti e rotolare! Abbassarmi e rotolare? Non è così che si comporta una roccia! Non possiamo fare sempre a modo nostro! Sarebbe davvero sciocco, giusto? Adesso! Potentissimo! Vuol dire che... Trek ha superato la sua prova! Un risultato davvero sorprendente, giovane guardiano. E anche una lezione importante. Oh, lo so! Lo so! Chi va piano non va lontano? Tra l'incudine e il martello? No! Bastoni e pietre mi rompono le ossa? Qualche volta si deve cedere terreno per guadagnare terreno. Sì, questo ha molto più senso. Gormiti, gormiti raggiungibili, chi mi fermerà? The legend is back! Legend is back! Gormiti! 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 Grazie! Gormiti! Gormiti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.